Una buona sgambata, c'è chi ha fatto meglio, chi ha fatto peggio, però sono partite che servono per valutare un po' tutti, soprattutto i giovani e direi che ci sono state delle note molto positive su qualche ragazzo e niente, si lavora e domani mattina riprenderemo a lavorare come stiamo facendo e poi soprattutto non si è fatto male a nessuno, quindi penso sia molto la cosa che conta di più in questo momento. Sì, è relativo, potevamo prenderlo, potevamo non prenderlo, però va bene, prendiamo tutto in positivo, si parla sempre in positivo tutti e va bene, è stato un buon risultato, una buona sgambata, abbiamo giocato in modi diversi anche per vedere tante cose, quindi sono contento e andiamo avanti così. Grazie a tutti.